Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi siamo qua per un'occasione un po' casuale e un po' speciale ovvero vi avevo chiesto su Instagram di chiedermi dei suggerimenti di libri che mi ricordavano qualcosa, che rappresentavano qualcosa che potevano essere associati a delle emozioni, a dei momenti, a dei ricordi eccetera eccetera, un po' un delirio solito mio, casuale tutto ciò è una scusa per provare insieme a voi la palette nuova di Jeffree Star della Summer Collection ovvero la Joe Breaker che io ho speso l'anima per questa palette ma devo dire che è bellissima, doveva essere una first impression e in realtà sono un po' in ritardo perché non ho avuto tempo di girare, la sto amando, adorando, è bellissima e cioè adesso insomma ha questo schema colori super delirante ma è bellissima, ci sono dei colori veramente super unici e particolari, io ho diverse palette nel senso che ne ho un po' e questa è forse la più particolare che ho, quella meno diciamo utilizzabile tutti i giorni, almeno per quanto mi riguarda io sono abbastanza basic con il makeup e niente comunque ha dei colori meravigliosi i miei preferiti sono Cherry Wet che andremo ad usare dopo bellissimi, sono tutti metallici di Shimmer, Bite Me è meraviglioso e mi piace tantissimo, cute il giallo stratificato funziona abbastanza, non è wow però insomma è una palette molto versatile, si possono fare un sacco di cose ha questo specchio super enorme e quindi insomma è molto bella, molto 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 comunque insomma è una scusa, io di makeup non capisco nulla assolutamente, faccio cose a caso sugli occhi come potete vedere, questo è il risultato finale ma insomma niente quindi io risponderò mentre mi trucco alle vostre richieste di suggerimenti o cose che mi ricordano altri libri e niente spero che questo video possa interessarvi e che ci siano dei consigli utili e direi di tornare indietro ok direi che siamo arrivati alla partenza, non vi chiederò scusa perché questa è la mia faccia ma in compenso io comincerò a non vedere nulla perché ora devo togliere gli occhiali e io non vedo assolutamente nulla senza occhiali anche a questa breve distanza cioè saranno tipo 50 cm esagerati tra me e la macchina ma non ci interessa detto ciò, allora sul telefono mi sono segnata tutte le vostre richieste e quindi insomma io adesso più inizierò a truccarmi, farò un gran casino, già lo so perché non sono in grado però insomma provo a darvi dei suggerimenti sensati mentre mi trucco quindi è una cosa difficilissima fare mille cose tutte in contemporanea ma insomma abbiate fiducia in me allora non faccio la base prima perché questa palette di Jeffree Star è super polverosa e vi copre, cioè vi cade, fa fall out e vi cade anche ovunque ve la ritrovate in posti che non pensavate potreste mai truccare nella vostra vita ma invece è bene così quindi tra cose che premetto sempre non ripetete queste cose a casa io non sono una make up artist tutto ciò che so l'ho imparato da altre make up artist perché le ho sempre lavorato con loro se non le ho imparate da loro mi sono sempre arrangiata o guardo video su youtube come tutti ma ripeto io non faccio la make up artist quindi vi racconterò cosa sto facendo sempre che vi possa interessare e i prodotti che utilizzo non lo so io parlo di libri però vabbè non si sa mai e intanto mi trucco ripeto di nuovo io non sono una professionista quindi tutto ciò che faccio lo faccio in maniera casuale intanto devo anche leggere e parlarvi dei libri che vi devo suggerire spero di più o meno coprire tutto perché mi avete fatto veramente tantissime domande ed è stato difficilissimo trovare i titoli da suggerirvi per alcuni o lo sarà allora partiamo facendo una cosa basilare perché questa palette va utilizzata con la base bagnata quindi io uso un primer io uso quello di anthos cosmetica super naturale che è la crema base per il trucco e già avviciniamo la palette perché c'ha questo specchio enorme che è super comodo e bellissima questo di anthos è una crema che è molto molto utile è un primer super utile perché è leggero è profumato ed è super infrescante quindi io ve lo suggerisco perché in questa stagione detto ciò sono davvero molto poco professionale però io qualche accenno di cose che so ve le dico e altro che altro si io la stendo con le dita perché mi trovo più comodo quindi rimane leggermente bagnata ma non molto umida però in teoria dovrebbe bastare per far attaccare il trucco non ne uso tantissimo e niente questa è super super buona perché non contiene schifezze io non riesco a utilizzare troppo negli occhi cose che contengono schifezze anche se temo che questa cosa di Jeffree Star ne abbia parecchie ma non siamo qui per parlare di questo allora intanto che cosa andrò a fare? a livello di trucco non ne sono ancora né certa né ho la certezza però insomma un po' di idee credo che userò i miei colori preferiti che in questo caso sono Cherry Wet perché questo è bellissimo è veramente un colore meraviglioso come raspberry e altre cosucce userò penso Fop e Bubble Gum non lo so comunque volevo dargli una puntina un po' insomma così vediamo mi sarebbe piaciuto tantissimo utilizzare anche Cute Gum Pop e Sour a caso con un po' di Bite Me magari però mi sento più sul Bordeaux Fucsia Rosa vabbè andiamo su questo vedremo cosa fa ma intanto dobbiamo anche raccontarvi i libri vi devo anche raccontare i libri allora il primo libro che mi chiedete di suggerirvi è un libro che mi ricorda Mr. Fiction devo dire che ci sono state un sacco di domande che avevano a che fare con Mr. Fiction e devo dirvi che allora ci ho pensato un attimo perché un libro vero e proprio che mi ricorda lui caratterialmente non esiste o lui in prima persona un libro che proprio cento peccendo parla di Mr. Fiction anche perché tutto ciò che avrebbe a che fare con Mr. Fiction coinvolge fondamentalmente dei fumetti quindi vi avrei detto qualcosa della Marvel sicuramente gli Avengers Spider-Man che io odio ma è il personaggio preferito di Mr. Fiction insieme a Batman però quello lo condividiamo mentre io odio Spider-Man ma quindi vi dirò intanto sto usando fuck non si dovrebbe dire credo ma io lo dirò qua per fare la transition non vedo nulla assolutamente nulla e allora 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 in pratica che cosa mi viene in mente parlando di Mr. Fiction ho pensato al libro che stavo leggendo quando abbiamo iniziato ad uscire insieme o quando ci siamo conosciuti no perché ci conosciamo da una vita però direi che è altri libertini di Tondelli perché io lo stavo leggendo dopo aver letto Camere Separate e perché mi ero innamorata ovviamente di Tondelli e quindi niente direi che lo associo a questo perché quando ho conosciuto lui stavo leggendo Tondelli e che è diventato anche uno dei miei autori preferiti ed è un libro che io amo perché davvero è uno degli autori italiani più incredibili che abbiamo mai avuto sì doveva essere una cosa un po' leggera guarda qua comunque insomma questa è la pigmentazione di questa palette va super stratificata perché è molto pigmentata ma appena la sfumate perde tantissimo colore in compenso se ci è andato leggermente più pesante come sto facendo io come vedete è una roba scusate sono cecata però in pratica poi proviamo ad andare avanti con le richieste le domande il libro che mi ricorda anzi il libro che useresti per prendere a librate in faccia gente che si meriterebbe una svegliata scusatemi sono anche diventata analfabeta nel frattempo che non giravo video su youtube allora ok banalmente cioè queste domande sono veramente cattive ragazzi comunque io direi che andiamo direi che andiamo sul peso specifico non andiamo a cercare qualcuno che lo è perché se c'è qualcuno da prendere a librate in faccia sicuramente non li leggerà questi libri quindi andiamo sul peso specifico e quindi non so nella mia libreria potremmo tranquillamente andare quest'anno con The Priory of the Orange Tree di Samantha Shannon ovvero Il priorato dell'albero delle arance che è un tomone di 900 pagine che in copertina rigida secondo me può fare molto male quindi ci sta oppure Il trono di spade che è un'altra cosa molto molto voluminosa e pesante nell'edizione quella speciale insomma anche la copertina che penso faccia proprio male fisicamente invece un libro che associo al mio stile vestiti make up questa era abbastanza difficile quindi direi che essendo la regina del mondo gotico che non è stata solo una fase sto scherzando non sono assolutamente la regina che è più gotica di me però insomma essendo prevalentemente in nero mi sto sforzando a non vestirmi perennemente di nero per non sembrare a un funerale perenne direi qualsiasi cosa di Poe quindi l'Igeia il pozzo il pendolo la maschera della morte rossa qualsiasi cosa che abbia a che fare con queste cosine qua ecco direi Poe Poe probabilmente a livello estetico rappresenta tutto ciò che a me piace molto ho poca fantasia lo so però sì allora ok adesso devo fare un'altra premessa l'ennesima ok mi avete chiesto tantissime di voi di darvi dei consigli come se io avessi la soluzione per alcune cose e voi avete sbagliato proprio canale cioè questo canale non è una celebrazione del yes andrà tutto bene no io non sono in grado di fare queste cose questo canale celebra la tristezza celebra la rabbia celebra la depressione celebra l'ansia ma perché io trovo che sia un'emozione che vanno sperimentate e vissute non vanno demonizzate anche se ovviamente sono le emozioni spiacevoli però cercate tutte soluzioni da me che io non ho e quindi mi fa molto ridere questa cosa fatta questa premessa capirete meglio dalla prossima domanda la prossima domanda sul libro è un libro per quando sei in ansia per mille cose minchia non leggo niente per quando sei in ansia per mille cose devi spegnere il cervello vi sembra che io spenga mai il cervello mai cioè io non sono insonne da quando ho 5 anni e non sto scherzando vi sembra che io spenga mai il cervello no non credo però vi direi qualcosa di romance qualcosa di busy chiclet proprio così che non è proprio il mio genere intanto qua sta venendo il circo orfei vabbè chi se ne frega mi viene in mente to all the boys I've loved before mi viene in mente poco altro ok anzi vi suggerisco un titolo che ho letto veramente di recente vi ho già suggerito però devo dire che a me mi ha risollevato la giornata che è stato il principe la sarta il fumetto di Bao perché è davvero adorabile cioè alla fine non potete non sorridere quindi probabilmente quello l'ansia non ve la toglie perché l'ansia non la toglie niente però in compenso un attimo il cervello lo spegnete ovviamente io li avevo puliti questi pennelli perché volevo girare il video tipo due settimane fa come vedete siamo qui i pennelli sono luridi luridi va bene ma non ci interessa allora invece passo a prendere Cherry Wet che è bellissimo scusate ma io adoro è questo fucs quasi bordeaux è bellissimo quindi insomma adesso non lo darò con le dita ho preso dello scottex per pulirmi perché so che faccio sempre dei gran pacciughi comunque prossima domanda è un libro per una piovosa giornata d'autunno ed effettivamente oggi forse è la prima giornata in cui piove qua a Bologna no non è vero ha piovuto abbastanza in questi giorni perché sono stati giorni un po' però meno male perché era un caldo asfissiante comunque io vi direi per citare titoli un po' inusuali insomma su questo canale visto che così vi direi Le Meteore di Tournier che è un libro che ho letto per un esame parla di due gemelli e di un rapporto cioè del rapporto proprio sul doppio vissuto come gemellarità come un momento cioè che cosa significa essere una doppia identità ma essere anche l'individuo e per me è bellissimo è un libro che mi è piaciuto moltissimo perché parla anche di una trasgressione del tradimento della propria identità è molto molto bello ed è perfetto secondo me per una giornata di autunno e poi vi direi Moravia probabilmente perché la noia io ce lo vedo benissimo letto in una giornata autunnale dove insomma abbiamo anche bisogno forse di essere annoiati noi dove in fondo la noia è uno di quei sentimenti che probabilmente prende il sopravvento perché non so almeno per me è stare chiusa in casa quando magari non ho da lavorare cioè mai io odio rimanere chiusa forzatamente in casa mi piace la pioggia in realtà sono una di quelle che ama molto come sentimento quello dell'astruggimento da pioggia però devo dire che dopo un po' mi scasso le valle e ho bisogno di uscire e vedere cose parlare con la gente eccetera e quindi niente quindi vi direi questi due titoli comunque se già non l'avessi detto giù nell'infobox trovate tutti i titoli che vi suggerisco prossima domanda semplicissima è un libro che mi ricorda la mia adolescenza me ne sono arrivate tantissime di questo tipo di domande allora io direi tanti perché non riesco a riassumerlo in una solo perché allora durante la mia adolescenza io ho letto tanti dei miei libri preferiti ma in alcuni casi volevo anche un po' trovare dei parallelismi con la mia adolescenza cosa che è difficilissima e non che i prossimi che vi suggerirò hanno nulla a che fare con la mia adolescenza ci tengo no? perché magari pensate cose strane comunque sicuramente penso che comunque il libro più importante di tutta la mia adolescenza sia stato Lolita di Nabokov perché è tuttora uno dei miei libri preferiti è un capolavoro io lo amo insomma mi ha proprio illuminata leggere Lolita non abbiamo delle insomma nulla a che fare di autobiografico però insomma è un libro che io ho amato profondamente poi era il periodo dove ero tantissimo tantissimo fan di Palaniuk io dico Palaniuk non dico Polniuk come si dice io dico Palaniuk e quindi direi Soffocare ma anche Invisible Monsters sono stati due libri che mi hanno folgorata quando li ho letti e poi direi anche di Eugenides Le Vergini Suicide Ragazzi Interrotte sì perché ero un po' trasgri ero incazzata quindi insomma questi due sono stati i miei modelli di vita ho adorato anche i film quindi insomma non avrei potuto non citarli cioè questo colore comunque è bellissimo sto lasciando appositamente qua un po' un po' scarno perché voglio fare una cosa che verrà un disastro chiaramente però io ci voglio provare e anche qua va un po' stratificato perché questo ad esempio è un pigmento puro quindi ci vuole un po' a farlo aderire perfettamente fare in modo che sia omogeneo è bellissimo comunque un colore che sto adorando questa palette veramente mi sta rendendo un pagliaccio ogni giorno perché sto sperimentandola qualunque comunque come vedete fa un sacco di fallout adesso io lo vedo molto non so se si nota in camera comunque praticamente qua sono parecchio rossa comunque un libro questo è difficilissimo ragazzi voi mi odiate secondo me un libro che ti devasta ma ti rende felice allo stesso tempo allora io ne ho parlato in lungo e in largo è un titolo che ormai odierete da quanto ne ho parlato comunque devo dire che per questa domanda mi viene molto facile suggerirvi Nowhere Girls di Amy Reed perché Nowhere Girls è un titolo che proprio ti massacra al cuore per ciò che leggi perché è pesantissimo per alcune tematiche che tratta ma le tratta sia con una delicatezza ma anche con una consapevolezza tale che non so io l'ho amato allora nel frattempo per sdramatizzare un attimo vado a prendere il raspberry il raspberry è molto secco è questo colore prugna intenso che è bellissimo però è molto secco quindi fa fatica a venire su comunque io lo userò in entrambi gli angoli degli occhi perché io ho gli occhi abbastanza chiusi quindi a me non servirebbe nulla a sfumare solo quella parte questa parte qui e lo vado a dare un po' sulla piega e semplicemente qua non so cosa stia venendo fuori perché non vedo nulla comunque tornando a Amy Reed ragazzi io non so più come dirvi di leggerlo perché è un libro bellissimo secondo me è bellissimo ha una delicatezza tale nel parlare di tematiche molto molto pesanti ma oltre che pesanti anche molto toccanti ed emotive e Amy Reed è una regina io l'ho amato è uno dei libri più belli che ho letto l'anno scorso e ve l'ho suggerito in tutte le salse se voi ancora non mi avesse ascoltato perché non mi ascoltate io ve la butto lì prossima domanda invece è un libro da cui torni quando ti senti giù allora è scontato parlare di un libro anzi di una serie in particolare penso che la sentirete citare sempre in questo book tag visto che mi avete fatto un sacco di domande sulla tristezza sull'ansia sull'essere depressi tristi eccetera perché mi conoscete bene devo dire ci siamo conosciuti bene in questo anno e mezzo quindi devo dire per non citare il mio amatissimo Harry Potter devo dirvi Neverwhere di Neil Gaiman allora so che Neil Gaiman è un po' io ne ho parlato in un video dedicato a lui e che e Neil Gaiman è uno dei miei preferiti vorrei fare così la puntata 2 perché si parla troppo poco su youtube di Neil Gaiman allora Neverwhere è uno dei miei libri preferiti di Gaiman perché trovo che sia una delle cose più sognanti che esistano e quando sono triste devo dire che forse non è che lo rileggo però ci penso spesso perché è un libro che ti fa un po' evadere che ti spazza via davvero la tristezza in maniera molto intelligente in maniera sempre molto divertente proprio in pieno stile Gaiman ed è veramente il mio preferito in italiano è il nessun dove sì bellissimo è uno dei miei prefe proprio sta venendo qualcosa vaga che schifo raga non sono mai truccata così male ma non vedo nulla quindi insomma sì direi quello vado avanti perché in tutto ciò è difficilissimo fare questa cosa mentre mi trucco che idee balzane che ho avuto allora un libro che ti fa dire what the fuck e io penso di non averla interpretata nel modo giusto cioè nel modo in cui mi era stato chiesto però allora sì io penso penso all'onore perduto di Caterina Blumen di Heinrich Böll perché penso il what the fuck mi viene così naturale pensando alla situazione dell'informazione in questo momento e come questo libro sia incredibilmente sul pezzo quando si parla di distorsione delle informazioni e uso e plagio anche del pubblico e come i giornali spesso non facciano il proprio dovere cioè quello di informare ma pieghino la verità in modo da utilizzarla o per fare scalpore o per insomma asservire un partito politico un certo centro di potere insomma e penso che sia attualissimo è un libro bellissimo e Heinrich Böll a me piace tantissimo e quindi io ve lo consiglio devo dire che in realtà pensavo fosse peggio ma una volta che sfumi eh una roba sta venendo fuori che belli sti colori davvero il problema è che ora dobbiamo andare dall'altra parte ma a parte i colori che non ci interessano probabilmente sto cadendo dalla sedia non so fare queste cose sedute vabbè prossimo consiglio invece è un libro per non sentirsi soli e io anche in questo caso vi cito un libro che vi ho credo suggerito in tutte le salse tutte tutte dalla prima all'ultima perché non è colpa mia se non mi ascoltate abbastanza e quindi vi direi tra l'altro sto utilizzando questi bellissimi set di pennelli di storybook cosmetics non per tutto però per ora ne utilizzerò due il resto sono cerpame che ho recuperato negli anni queste real techniques questi non mi ricordo nemmeno alcuni provengono da wish altri me li hanno regalati quindi io non so nemmeno il nome dei miei pennelli tranne di questi perché ci ho speso un'ira di dio e sono bellissimi detto ciò torniamo seri il libro che non mi fa sentire sola ce n'è tanti di libri che non mi fanno sentire sola io ho veramente molto penso di avere forse tra tutte le mie caratteristiche il senso di empatia molto sviluppato e anche nel sentire empatia nel provare empatia verso oggetti e cose però insomma non è questo il punto e devo dire meno sole mi fa sentire tantissimo Circe di Madeline Miller io credo che questo libro riesca in qualche modo a racchiudere in sé cosa vuol dire essere una donna per tanti versi tramite una figura che chiaramente proviene dal mito è nota da noi tramite il poema epico e quindi insomma noi la conosciamo solo in parte ma in questo libro scopriamo che lei è tanto 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 di più e rappresenta quasi più l'essenza dell'essere donna e questo veramente a me ha rincorato molto perché anche se è una persona molto diversa da me perché sembra quasi passiva la protagonista cioè Circe è una persona che subisce subisce però a un certo punto arrivi a capire che un po' la sua storia è la storia di chiunque potrebbe essere la storia di chiunque soprattutto andando avanti nella narrazione è un libro meraviglioso non so più come dirvelo che Circe è un libro bellissimo è uscito anche in italiano quindi se voi non l'avete letto ve lo dico anche con la bacchetta di Voldemort sì quella di Voldemort no questa non mi ricordo non sono espertissima delle bacchette di Harry Potter è una di quelle cose che a me non frega nulla e comunque scusatemi sto interrompendo i suggerimenti perché sennò non capisco nulla è molto molto secco questo ombretto sta veramente facendo venire fuori il peggio di tutto le mie cinture nere in bestemmia visto che avevo detto che avrei fatto una prova sulla palette di Jeffree Star qualcuno mi chiede un libro che consiglieresti a Jeffree Star e io non so dirvi bene per quale motivo ma ho pensato a Nanà di Emile Zola perché in fondo Nanà è un libro che a me è piaciuto tantissimo io amo Emile Zola e se non si dice Emile Zola mi spiace per tutti i francesi all'ascolto io non parlo francese e Nanà è il classico personaggio che viene proprio veramente dai bassi fondi e un po' mi ricorda la storia di Jeffree per alcuni versi anche se Nanà finisce no good però non vi dirò come so che è spoiler però è un libro bellissimo e secondo me chiunque anche se fa cose terribili la nostra protagonista ma terribile ed è un po' ciò che io associo a Jeffree Star perché la trovo una persona che online non mi piace come gestisce le cose è veramente bullismo puro digitale cosa che non mi piace però devo dire che lo trovo un artista magnifico ed è un po' quello che succede a Nanà perché dai bassi fondi che è una storia simile a quella di Jeffrey riesce ad emergere però diventa super mega opportunista diventa cioè si prende gioco di tutte le persone che ha attorno per ottenere successo ma poi verrà punita ecco diciamo così e non lo so perché mi ricorda la storia di Jeffrey però una volta che il lettore lo legge non può non provare simpatia è un po' uno di quei casi dove dici sono capitate veramente tutte tutte le sfighe di questo mondo a questa persona alla fine se si comporta in questo modo un po' lo capisco allora ho dovuto mischiare un po' di Bite Me con il Raspberry prima mi ero scordata di dirvelo per intensificare un po' questo colore un pelo più scuro e dargli anche un effetto un po' shimmerino e si sfumano abbastanza bene questi shimmer davvero sono più difficili da trattare i matt non è terrificante il risultato anzi posso allungare un pelo di qua che belli questi colori sono bellissimi andiamo avanti perché mi sono soffermato un'ora su una navi e mezzo là allora il libro che ti ha fatto incazzare e in questo caso io devo dire God's Grave di Jay Christophe perché è un finale che ti lascia dovresti tirare il libro contro il muro spezzettarlo in mille pezzi e avere direttamente Dark Tone invece abbiamo atteso due anni prima che uscisse e io lo sto leggendo in questo momento ed è magnifico magnifico è bellissimo quindi visto che esce anche in Italia il 3 settembre tutta la trilogia di Nevernight siete obbligati personalmente da questo canale a leggerlo allora mi chiedete questa domanda alla quale io veramente mi chiedo come rispondere però un libro che ti faccia guarire dall'insofferenza verso l'umanità allora non si guarisce dall'insofferenza verso il genere umano anzi continuerà a farvi sempre più schifo continuerete a perdere speranza nelle persone perché purtroppo non so se vi state rendendo quanto stiamo peggiorando come società quanto stiamo perdendo sempre di più alcune cose positive comunque diciamo che forse vi posso suggerire un libro per mettervela via cioè per accettare e smettere di combattere questa insofferenza che provate per l'umanità che è Lo Streniero di Camus direi che è più che adatto noi ci troviamo di fronte a una serie di ingiustizie e del trattamento disumano che vediamo ma proprio disumanizzante anzi forse più che disumano cioè è entrambe le cose e quindi è un libro che è perfetto proprio per mettersela via per rassegnarsi a questo stato che patirete per tutto il resto della vostra vita perché è così perché chi non riesce a sopportare queste cose non può non può sopportarle consiglio invece richiesto per un libro per quando vorresti andare via da tutto ma non puoi allora diciamo che forse è scontato dirvi che è inutile rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere quindi di nuovo Harry Potter vero? non lo devo? quindi non citerò Harry Potter ma citerò Harry Potter una la devo giocare la carta jolly lo citerò no? prima di andare avanti piccola osservazione di servizio se non siete molto esperti non che io lo sia ci tengo a ridirvelo e a ribadirlo questa non è sicuramente la palette per voi perché rischiate di fare macchia continuamente rischiate davvero di impazzire per usarli perché non sono proprio semplicissimi vanno lavorati tanto come moltissimi ombretti di Jeffree Star però la loro qualità è davvero altissima cioè è veramente bellissima comunque non siamo qua per parlare solo di trucco ma siamo qua per suggerirvi anche dei libri nel frattempo un libro che ti ricorda la crescita e il diventare adulti forse sarò banale scontata quello che volete ma vi direi il giovane Holden perché il giovane Holden parla anche tanto di ingiustizia in qualche modo però è un libro che secondo me va letto soprattutto quando siete giovani perché con l'occhio adulto siete meno inclini a perdonare ciò che compie il protagonista però io lo trovo un libro magnifico molto 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 adatto al tema della crescita è molto 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 intenso quest'occhio chiaramente è venuto meglio questi cazzi qua dopo aggiustiamo con lai lai allora una bozza di idea più o meno c'è ci metto anche un po' di giallino giusto per perché qua stiamo diventando carnevale e quindi perché non carnevalare ancora di più beh però il giallino ci dà quel tocco un po' happy hour che a noi piace però in tutto ciò devo smettere di dire stronzate e magari suggerirvi dei libri cosa dite un libro per il caldo per l'estate me l'avete chiesto tantissimi e cioè nel senso che cosa succede per il caldo che cosa vi aspettate vabbè in ogni caso suggerimento mio è leggetevi Outlander di Diana Gabaldon che è perfetto perché così leggete una saga che secondo me è molto appassionante se voi andate al mare cosa che io non faccio ve lo portate sotto l'ombrellone incontrate Jamie Fraser perfetto per quando avete caldo perché vi scalderà ancora di più parliamone in questi termini e di più perché dai siamo in Scozia ci sono 18 gradi anche solo immaginare che faccia più fresco di qua può essere giusto no? non lo so io ho passato settimane di fuoco e poi ora sta piovendo quando io sto per finire i matrimoni non quando c'erano i matrimoni sotto 500 gradi allora un libro che ti ricorda un momento bello e io vi citerò un libro strano nel senso che non ha proprio troppo a che fare con un momento bello forse però per me è stato un momento molto bello ovvero sto pensando perché in tutto ciò mi devo pulire sotto visto che ho l'acqua lungo adesso mi pulisco e arrivo ok? ho smesso di sembrare un pagliaccio allora cosa facciamo adesso? potremmo fare la base e poi mettere gli ultimi sbrillini si sarà tutto a caso in questo video allora andiamo a fare la base poi torniamo agli occhi allora io uso come fondotinta Bare Minerals Bare Pro che è leggerissimo ha anche un inci decente per essere un fondotinta io non amo i mascheroni quindi mi piacciono le cose poco coprenti perché non ho difetti della pelle non ho nulla da esageratamente pesante quindi insomma si stende tranquillamente con la spugnetta sì forse sta diventando un po' chiaro perché involontariamente ho preso del sole ma a noi piace la piallata bianca comunque stavamo parlando di un libro per un momento felice e io non posso non citarvi questo libro per un motivo semplice quando io ho smesso l'università in maniera traumatica io non ho letto libri per un anno e mezzo non ho aperto una pagina l'unica cosa che leggevo era il giornale rifiuto totale del libro dopo il trauma subito quindi praticamente devo dire che il primo libro che io ho letto dopo quasi un anno e mezzo è stata la biografia di Maria Antonietta di Antonia Fraser che è la biografia su cui si è basata Sofia Coppola per Maria Antoinette è una biografia bellissima molto accurata molto completa che indaga tantissimi aspetti sia dell'infanzia che della vita più nota adulta di Maria Antonietta come hanno fatto anche tantissime biografie tipo quella della Carole Erickson eccetera eccetera e penso di aver letto una ventina di biografie di Maria Antonietta è il mio personaggio storico preferito quindi ce l'ho anche tatuata addosso quindi insomma però devo dire per me è un libro che associa un ricordo bello perché finalmente dopo tantissimo tempo l'avevo vista l'ho comprata perché era in mega offerta l'ho trovata su una bancarella mi chiamava e niente da lì mi sono letta la qualunque ho letto tipo per tre mesi solo biografie però grazie a queste biografie che ho esplorato davvero tutte le regnanti europee non regnanti europee della storia mi ha proprio rimessa a leggere quindi io ringrazierò sempre questo libro perché lo associo proprio al ricordo del ritorno alla lettura ok la base è fatta quindi possiamo andare anche alla prossima domanda adesso mi andiamo a mettere il correttore allora un libro che ti ricorda la tua infanzia io trovo vabbè vorrei dirvi dal perché chiaramente mi ricorda tanto la mia infanzia ma vi dirò invece il giardino segreto perché lo associo proprio a un ricordo particolare dell'infanzia e anche alla mia migliore amica e ci conosciamo da 30 anni quindi temo che sia quasi doveroso citarlo ed è un libro bellissimo per cui abbiamo pianto tantissimo entrambe e niente quindi insomma madonna qua ho dato una piallata che comunque e quindi sì direi proprio il giardino segreto perché è un libro meraviglioso che penso che tutti i bambini dovrebbero leggere perché è commoventissimo ma è anche molto bello appassionante meraviglioso invece un libro che ti ha fatto spattaccare da ridere allora qua come non citare Guida Galattica di Douglas Adams perché io ho riso penso per tutta tutta la lettura vi devo dire una cosa che vi sembrerà molto strana ma Guida Galattica è un libro che io adoro per alcuni versi ma non è un libro secondo me perfetto anzi pieno di difetti e infatti io penso che sia stato uno di quei libri a cui non avrei mai dato 5 stelline però devo dire che invece per quanto riguarda l'umorismo l'umorismo il modo in cui affronta certe tematiche quel British humor proprio un po' molto sottile alcune volte e talmente tagliente in altre è un libro per cui ridi dall'inizio alla fine ed è la cosa più bella più assurda l'assurdità che emette Adams in questa narrazione vabbè come si fa a non amare veramente come si fa a non amarlo altra domanda invece di tutt'altro impatto emotivo è un libro per dimenticarsi di essere tristi che leggi quando hai solo voglia di piangere ti devi riprendere allora quando sei triste hai solo voglia di piangere tu hai voglia di piangere quindi è giusto sfogarsi io trovo molto giusto sfogarsi io vi suggerisco qualcuno con cui correre di Grossman perché così vi sfogate dall'inizio alla fine è un libro bellissimo secondo me è il mio preferito di Grossman io non ho adorato tante altre cose che ha scritto trovo più belli i suoi titoli che il contenuto a volte non so nemmeno io cosa ho dato comunque ho usato scusatemi il correttore di Jeffrey che mani basse si sta rivelando meraviglioso non copre del tutto le mie occhiaie incredibili però devo dire che almeno non mi fa sembrare una vecchia ed è molto leggero e non mi fa venire i puntini rossi come i tre quarti dei correttori che esistono sul mercato magari ci mettiamo anche puntina qua e puntina qua comunque questo canale ripeto non offre soluzioni alla tristezza perché qua la celebriamo qua io credo fortemente che la tristezza sia un'emozione che è giusto vivere è giusto passare è giusto sperimentare e insomma andate fino in fondo sfogatevi perché è giusto e poi dopo ci si riprende ragazzi ci riprenderemo ci riprenderemo tutti e andrà tutto bene allora questa domanda è scontata quasi la risposta come un libro che ti ha fatto capire che il fantasy era al tuo posto e lo so che l'ho già giocata alla carta però io sono scontata banale però io avevo nove anni quando ho letto La pietra filosofale e quindi di Harry Potter un libro che consiglieresti invece al tuo peggior nemico e qua siamo shady qua siamo cattivi mi viene in mente di citarvi Espiazione di McEwan perché quale sentimento è da augurare al tuo più caro nemico se non il senso di colpa e direi che Espiazione si fonda completamente sul senso di colpa e quindi allora ora do molto leggermente la powder indissoluble compact powder di puro bio che io uso come cipria perché ho sempre usata ho la pelle secchissima non dovrei usare la cipria ma la usiamo così dopo siamo pronti per girare il prossimo video non con la fronte lucida però in maniera molto leggera perché essendo estate fa anche caldo con con il patacone in faccia e voi direte ma c'è già un gran patacone vero ok vado sotto l'occhio adesso scusatemi questo video sarà delirante se riuscite a seguirlo io vi stringerò la mano get ready with me con me sono va bene andiamo avanti quindi dopo aver suggerito al mio nemico di soffrire inutilmente di senso di colpa andiamo a un libro dove ti è capitato di trovare un personaggio che ti somiglia particolarmente ve l'ho già detto numerose volte direi che ultimamente il personaggio al quale mi trovo più vicino è Zoya Nazieleski di King of Scars perché ci assomigliamo molto 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 c'è poi King of Scars Grisha Trilogy eccetera eccetera e sta arrivando in Italia il 24 settembre esce 6 di Corvi lo so che ve l'ho già detto tipo almeno in ogni video però eh non c'è Zoya cioè no non c'è Zoya però arriverà allora un libro che ti trasporta in Inghilterra andrò su dei mega classici in tutto ciò dovrei fare cose ok tipo questa siamo sicuri poi di fare questa cosa no che non siamo sicuri però la faremo allora un libro che mi trasporta in Inghilterra io andrò su dei mega classici sarò banale scontata whatever you want ma se io penso all'Inghilterra io penso sicuramente subito a Jane Eyre penso subito a Tess d'Uberville e penso a cime tempestose cioè per me quello quello è Inghilterra Brugliera Cliffs spazi aperti nebbia cioè tutto ciò so che non è così anzi cioè io penso di aver visitato l'Inghilterra in lungo in largo su per giù per tra fra però quello è come nella mia mente nel mio immaginario l'Inghilterra è sempre stata sempre sarà anche se non è così e quindi allora un libro che ti ricorda la pizza all'ananas e qua abbiamo invece un excursus sulla vita della piccola misfiction ovvero questa pizza all'ananas io l'ho mangiata solo una volta nella mia vita ed è stato in Croazia durante una vacanza quando ero tipo in seconda superiore tra la seconda e la terza superiore anzi tra la prima e la seconda superiore perché mia sorella in questa vacanza ha iniziato a camminare quindi me la ricordo bene e noi mangiamo la pizza all'ananas che tra l'altro a me piace tantissimo in tutto ciò io vi cito il cavaliere d'inverno di Paulina Simons perché quando eravamo in vacanza mia mamma stava leggendo questo io avevo già finito i due libri che stavo leggendo quindi ho iniziato a leggere il suo mentre lo stava leggendo lei e la cosa cioè il mio ricordo particolarmente affettuoso legato a questa cosa è a questo libro soprattutto che lei iniziò a leggerlo poi quando non lo leggeva lei lo leggevo io ma a un certo punto io continuavo ad andare avanti quindi noi abbiamo preso il libro e l'abbiamo praticamente dovuto rompere a capitoli perché così quando io finivo il capitolo glielo potevo passare e ognuna poteva andare avanti in maniera distaccata è un libro che è arrivato a casa distrutto ma che devo dire cioè tuttora me lo ricordo con affetto nonostante sia un libro che ha una relazione inquietante super abusiva però ero molto giovane ai tempi non capivo assolutamente queste dinamiche e non lo so quindi ci sono comunque affezionata perché devo dire che comunque mi ricorda la mia mamma e mi ricorda questa lettura folle insieme e la pizza all'ananas perché è l'unico momento nella mia vita in cui ho mangiato la pizza all'ananas è stata in Croazia e l'ena so che tu me la vuoi fare mangiare ma io non la rimangerò invece io devo fare cose un libro che associ al tuo segno zodiacale e io devo dire che mi viene da citare una stanza piena di gente perché se c'è una cosa che il mio segno zodiacale in realtà è la mia psicologia però io sono abbastanza appassionata di astrologia so che è una cosa che no però chi se ne frega e quindi non posso non citare una stanza piena di gente proprio perché insomma mi sento veramente molto vicino a questo questo essere continuamente psicolabile da qualche punto da un certo punto di vista il mio umore è così altalenante e sono così poco costante nel trattenere un'emozione trattenere un modo di fare sono gemelli scusatemi mi sono dimenticata sono gemelli ascendente gemelli quindi sono veramente molto molto altalenante molto molto un libro che ti ricorda il tuo viaggio in Svezia allora durante il mio viaggio in Svezia io sono stata in Svezia quando ero in tra la quarta e la quinta superiore no no in quinta tra la quinta superiore al primo anno di università scusatemi e siamo stati via parecchio perché abbiamo fatto quasi due settimane eravamo saliti con un gruppo di amici tra l'altro fighissimo perché siamo saliti con l'aereo poi abbiamo preso un pulmino e noleggiato abbiamo fatto il giro della Svezia fighissimo toccando Malmo Kalskrona anzi Kalskrona Malmo Emma Boda perché eravamo andati al festival di Emma Boda e poi dopo Stoccolma vabbè giro bellissimo la Svezia è bellissima infatti io mi ero innamorata volevo fare l'Erasmus in Svezia poi mi sono ricordata che in Svezia nevica tipo sei mesi l'anno comunque Excursus che non ve ne frega niente in quel periodo ero fissatissima con Lasciami Entrare e quindi sicuramente vi dico Lasciami Entrare ed è bellissimo anche il film se non l'avete mai visto è meraviglioso allora invece un libro che ti ricorda l'università e in questo caso io vi cito il libro la raccolta poetica che sicuramente ha segnato di più la fine della mia vita universitaria ovvero quella su cui io ho scritto la tesi in filologia della letteratura italiana ovvero Xenia di Montale dove potete trovare tra le altre cose la meravigliosa bellissima splendida e sempiterna non so come dirvi altre cose meravigliose su questa poesia comunque ho sceso dandoti il braccio che è la mia poesia preferita di Montale ovviamente sono banale è bellissima io non la conoscevo Montale lo conoscevo molto poco prima della tesi devo essere sincera perché lo conoscevo solamente per gli ossi di seppia e non era tra i miei poeti preferiti devo dire che dopo aver letto Xenia ho cambiato completamente idea sto cambiando idea anche sul mio trucco perché mi sembrava tutto troppo viola scusate mi devo concentrare in questo momento ma intanto che mi concentro magari vi rispondo alla prossima domanda un libro che associa alla rabbia e io direi sputerò sulle vostre tombe di Boris Vian è un libro che si incentra sulla rabbia sulla trasgressione su vivere soprattutto vivere in maniera molto intensa queste queste emozioni e quindi chiaramente mi pare quasi doveroso citarlo sta venendo una roba comunque non credevo cioè è totalmente random è sperimentale questo trucco che sto facendo quindi abbiate pazienza vado a mettere un po' di brillo qua dentro perché ci sono degli shimmer bellissimi questo qua è and what perché non voglio effetto troppo luce ma voglio semplicemente metallizzare un pochino cherry wet è bellissimo poi è morbidissimo questi sono bellissimi metallici barra gli shimmer di jeffrey sono incredibili un libro che ti ha cambiato e che associa all'idea che hai di te stessa allora un libro che mi ha sicuramente cambiato e che non so se associa all'idea di me stessa ma sicuramente a un ideale che perseguo è la nausea di sartre sarò banale come pochi ma quando io lessi la rave quando io lessi la nausea in realtà lessi prima il muro che la nausea però la nausea penso sia più illuminante ma anche l'esistenzialismo penso che mi abbia motivato nel diventare molto più in prima linea che detto così sembra che io vada in guerriglia però in realtà nel vivere davvero proprio abbracciando ciò che ha rappresentato l'esistenzialismo ovvero agire secondo ciò in cui credi perché se non fai non vale quello che pensi se non agisci puoi avere tante belle idee tanti bei propositi ma se non fai le cose non vale nulla sono solo pensieri invece bisogna trasformare i pensieri in azione bisogna davvero perseguire i propri ideali e io ci credo tantissimo in questa cosa e per questo è un libro che considero che mi abbia cambiato la vita in qualche modo che rispecchia l'idea che io ho di me stessa ma soprattutto che voglio avere di me stessa comunque passo a questo questa puntina qua perché vado a fare un po' l'interno dell'occhio non so illuminarlo un pochino allora non so se voglio illuminarlo tanto solo un pochino parto con cotton candy che è questo scimmerino metallico fucsia perché non voglio fare una roba estremamente perché non sta bene su di me io non sto bene con i punti luce in mezzo lì comunque andiamo avanti anche con le domande pertanto per non fare 28 cose insieme ok nel frattempo è anche arrivato il corriere di amazon quindi ho dovuto aprire la porta comunque torniamo a noi cosa stavo dicendo mi sono già scordata ok ero sul pippone di sartre ma direi che possiamo andare avanti un fantasy che ti viene in mente quando pensi alla tua adolescenza direi che forse è la trilogia di bartimeus perché la lessi proprio durante la mia adolescenza potrebbe starci questa cosa qui non è esagerata cioè non è esagerata esagerata fargli un complimento e poi dopo ci metto anche dell'arancione no va bene scusate comunque direi la trilogia di bartimeus perché era è uscita primi anni 2000 io sono stata adolescente nei primi nella metà degli anni 2000 e quindi direi che direi che calzava pennello ci sta ok poi gli metterò ve lo dico così anche un puntino di orange juice per fare tutto un po' tipo sempre sorbetto un libro per un viaggio a berlino ve ne parlo molto velocemente tutti i titoli ma perché chiaramente se no avrebbe un tag lunghissimo quindi qua vi do solo degli spunti di lettura cosa che di solito non amo fare perché io amo sproloquiare però insomma un libro per un viaggio a berlino e io vi dirò che qua io ho fatto un altro viaggio a berlino molto lungo quando era il 2010 anzi il 2011 siamo stati quasi 20 giorni perché ai tempi in realtà avevo un sacco di ferie accumulate dove lavoravo allora quindi insomma troviamo avevamo un sacco di amici che stavano a berlino e siamo andati a berlino però in università per teoria della letteratura non mi ricordo che percorso stavano facendo comunque ho lessi l'occhio di nabokov che vi ripeto è uno dei miei autori preferiti e cioè l'occhio racconta la storia di questo personaggio di origini russe che però si è trasferito a berlino e quindi calzava pennello sembrava fatto apposta è un libro bellissimo è il mio preferito di nabokov devo dirvi anche se in realtà sono più legata a lolita però è di un'altra caratura secondo me l'occhio è proprio bellissimo per tanti versi e lo trovo quasi molto più impattante per il messaggio che deve trasmettere lolita viene sempre confuso come un libro che parla della perversione ma in realtà non parla di perversione lolita e infatti nessuno lo capisce mai bene eh sobrietà però devo dire non mi dispiace non è sobrio ma io non sono sobria come persona e quindi sti cazzi eravamo in tema viaggio quindi insomma un libro che ti ricorda un viaggio che hai fatto e devo dirvi che potrei citarvi non lasciarmi di Ishiguro che è un autore che anche anche lui lo amo molto perché insomma ha segnato tantissima della mia adolescenza eterna adolescenza anche e intanto vado a farmi un po' di contour perché sembro che va bene che a me piace l'effetto fantasma però magari andiamo a fare fantasma con un po' di zigomi e io uso Shade Light di Kat Von D perché era in offerta da Sephora parliamoci seriamente allora non lasciarmi perché mi ricorda un viaggione che facemmo in Inghilterra con un gruppo di amiche e io ai tempi stavo leggendo sul viaggio della quinta superiore bellissimo ci siamo divertite come delle matte eravamo in un ostello tipo in centomila ho girato Londra in lungo e in largo ho magnato l'immagnabile ho visitato cioè poi io ho delle amiche che erano super super erano lo sono tuttora molto appassionati di giri non vanno solo a fare bordello quando vanno in vacanza ma sono tutte gite culturali e abbiamo visto veramente l'impossibile è stata bellissima come vacanza me la ricordo ancora bene e io stavo leggendo non lasciarmi allora un libro che ti ricorda come eri da adolescente di nuovo e invece uno che ti ricorda come sei diventata allora sulla seconda parte non lo so non ve lo so dire ma sicuramente per un libro che mi ricorda come ero magari io da adolescente è Alta fedeltà di Nick Hornby perché ero diciamo che ero veramente molto dura per essere molto gentile nei miei confronti ero veramente una cosa ingestibile ero super super netta nelle mie posizioni ero veramente ho tutto bianco tutto nero e per me non esisteva nulla nel mezzo ero cattivissima perché se tutto ciò che non andava come dicevo io ero veramente molto dura nei confronti delle altre persone se non erano i miei standard ero veramente un'adolescente pesantissima cioè io ho fatto patire cioè ciò che nessuno si merita di patire ai miei eccetera sono stata un'adolescente problematica perché Alta fedeltà perché Alta fedeltà mi ricorda una cosa che mi fece molto ridere io ero super selettiva delle persone rispetto ai loro gusti musicali sia nelle amicizie sia nel modo di approcciarmi alle altre persone cioè la musica comunque per me è stata una fortissima valvola di sfogo ma soprattutto mi ha anche fatto scoprire cose mi ha portata in giro mi ha motivata mi ha salvata ma ne sono certa al 200% e quindi l'idea che in Alta fedeltà ci sia questo personaggio che scegli partner in base ai gusti musicali e che veda tutto tramite un occhio musicale cioè in base ai gusti del prossimo mi ricorda tantissimo come ero io perché tuttora comunque una delle prime domande che faccio è che cosa ascolti perché non dico che giudico perché adesso sono molto più tranquilla però ai tempi se non ascoltavi musica per me era problematico adesso vado a mettere il blush poi off camera faccio sia eyeliner che sopracciglia perché non le so fare se parlo un libro che ti fa completamente evadere dalla realtà io direi che forse uno dei libri che più mi ha fatto evadere perché è proprio il senso del libro e anche un po' parte della storia del libro è la storia infinita di Mikael End perché già parla di un ragazzo che viene trasportato in questa storia e quindi direi che già di per sé è un libro che tratta dell'evasione e anche se poi in realtà è un libro che parla soprattutto del significato della lettura e la forza della lettura al modo in cui tante persone tra cui anche me intendono la lettura che cosa significa per loro è un libro magnifico io sono anche molto fan del film anche se il film non è completo e tutto però per me il film è bellissimo e quindi visto che è appena uscito Stranger Things never ending story basta gli ho dedicato questa performance questo va nei bloopers del video questa parentesi direi che vado off camera faccio sopracciglia e eyeliner e torno da voi che rispondo alle ultime tre domande ok eyeliner e sopracciglia più o meno fatte io uso penso da sempre almeno negli ultimi 12 anni l'eyeliner di Deborah lo trovo super cheap a livello di prezzo nerissimo e molto resistente molto 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 dura tutto il giorno e quindi insomma io sarò banale ne ho provati altri questa mi sembra che abbia la migliore formula non ci posso fare nulla magari cioè pronix robe varie però insomma un eyeliner va nell'altro e però l'ultima volta che ero stata alla commessa c'era una mega offerta è waterproof e ho preso questo che ha la puntina strana leggermente più grossa rispetto a quella che uso di solito io che è questa insomma vabbè a voi non interessa andiamo alle ultime due domande poi non so che cosa devo fare ancora perché c'ho già sta pagliacciata in testa mettiamo il rossetto però è difficile parlare con il rossetto comunque ci sono tre domande belline la prima è un libro da regalare ad un'amica per farle capire quanto tengo a lei allora io penso che se c'è un libro che parla di amicizie in maniera meravigliosa e non solo un libro per bambini però io sono legatissima a questa autrice e quindi non posso non citare Bianca Pizzorno con Ascolta il tuo cuore e ho i brividi solo a nominarlo come libro è un libro meraviglioso bellissimo credo che parli dell'amicizia più bella di sempre e in una maniera così delicata e anche molto forte perché comunque ci troviamo in mezzo ad un gruppo di tre amiche che affrontano il mondo e affrontano la crescita ecco cosa devo fare devo mettere l'illuminante comunque se vuoi far sapere ad una tua amica quanto vuoi bene a questa tua amica non puoi non regalarla Ascolta il tuo cuore quindi ora mi metto all'illuminante io uso il Basic Marble di Basic Gaia di Cosmify comunque questo è bellissimo io uso Ebe che è molto scuro ma è bellissimo davvero è un gran prodotto comunque a voi non interessa voi non siete qui per il make up allora vado avanti anche con le ultime domande un libro che associa buoni propositi ai buoni aspicci per la vita e non ha senso citarvi questo libro ma io ve lo cito è Il Circolo della Fortuna e della Felicità perché è un libro che io mi ricordo lei sia un mattone che ti fa piangere tutte le tue lacrime perché succedono cose veramente tragiche al suo interno è un libro corale che racconta una storia di diverse amiche di origine cinese che si trovano attorno a un tavolo per giocare in età molto più adulta e che ripensano a come sono arrivate lì storie dilanianti però è bellissimo perché comunque c'è sempre molto questo senso di speranza e si chiama proprio Il Circolo della Fortuna e della Felicità perché questo è il punto dove sono arrivate le nostre protagoniste è dilaniante ma bellissimo allora un libro che associa Bologna e io penso sia scontato quasi citarlo però direi Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Brizzi perché è il libro di Bologna è il libro di Bologna ma soprattutto è stato un libro generazionale quindi io non posso non citarvelo comunque che bello che sto illuminate ma ripeto che noi non siamo qua per il make up comunque secondo me sto anche esagerando un libro che ti ricorda la notte ciò che mi ricorda la notte e in questo caso anche qua un altro dei miei preferiti cioè La Luna e i Falò di Pavese perché è un libro dove l'oscurità è anche ciò che durante i Falò cioè durante questi rituali dal via da là a proprio il rituale e vabbè è bellissimo io lo amo Pavese è uno dei miei italiani preferiti di sempre per sempre e non potevo non citarvelo e quindi ultimissima domanda perché mi ha fatto molto ridere come è stata scritta è un libro allucinante come la puzza di ascelle in metro d'estate a Bologna non abbiamo la metro ma abbiamo gli autobus quindi comunque posso capire molto bene questa sensazione e allora io vi direi in maniera molto impopolare Dio di Illusioni ovvero The Secret History di Donna Tart e io penso che questo libro puzzi di presunzione tanto quanto le ascelle in metro è un vorrei essere British Stone Ellis e compagnia ma non lo sono e io quando l'ho letto penso di averlo detestato dal primo all'ultimo minuto proprio tutto 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 e quindi non potrei non citarvelo e niente direi che siamo arrivati in fondo grazie al cielo non so quanto durerà questo video allora metto gli occhiali perché non vedo più niente niente io spero che questo video che sarà delirante io provo pena per voi che lo dovrete vedere sia stato comunque in qualche modo interessante che i titoli che vi ho suggerito vi possano essere interessati sotto nell'info box trovate ovviamente tutti tutti i link a tutto così se volete spulciare dare un'occhiata aggiungerli in wish se volete chiedermi anche informazioni in più sui libri che ho citato ci troviamo giù nei commenti chiaramente e niente io vi ringrazio ancora una volta per aver resistito insieme a me per questo video lunghissimo e niente ci vediamo al prossimo video ciao